Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV, siamo sempre qui in diretta dal Salone del Risparmio 2019. Ho il piacere di avere qui con me Fabrizio Biondo di Le Manic e grazie per essere qui. Grazie a voi. Allora cerchiamo con lei, voi siete un gestore obbligazionario, di capire la vostra view rispetto ai mercati. C'è stato questo forte rimbalzo nel primo trimestre del 2019 dopo un 2018 sicuramente difficile per gli investitori soprattutto nel mercato del credito. Noi riteniamo che si tratti del classico rally all'interno di un bear market della durata di 1-3 mesi che tipicamente coincide con il 50% di ritracciamento dell'allargamento di spread registrato nella fase precedente. Teoricamente adesso in combinazione con una stagionalità che normalmente in aprile e maggio diventa sfavorevole e il desiderio di molti investitori di monetizzare i ritorni importanti ottenuti nel primo trimestre riteniamo che adesso sia giunto il momento di cominciare ad alzare le difese, cominciare a smontare un po' di posizioni di rischio perché dal punto di vista generale l'inversione del ciclo del credito è iniziata già nella seconda metà del 2018 e in coincidenza con una serie di catalizzatori importanti come l'eccesso del debito nel sistema corporate americano, il collasso della profittabilità aziendale, l'inasprimento degli standard di concessione del credito da parte dei sistemi bancari in giro per il mondo, è possibile che nella seconda metà dell'anno si cominci a intravedere qualche segnale di rischio molto più grande. Peraltro l'assetto della curva americana lascia presagire un'elevata probabilità di recessione della seconda metà del 2020 e di conseguenza il clima generale per l'investimento in asset rischiosi tenderà a deteriorarsi nel corso dell'anno in modo particolare nella seconda metà. Detto questo riteniamo che l'unico modo per generare reddito in modo conservativo e difensivo per il cliente sia di puntare sulla parte ultra breve delle curve a yield perché le dinamiche fallimentari restano comunque conservative e la combinazione rendimento rischio in questo momento è la più ottimizzata a livello dei vari investimenti obbligazionari possibili. Infatti rispetto proprio alle strategie di investimento voi come vi posizionate? Noi abbiamo di fatto un mandato un po' a livello proprio di filosofia sulla parte breve, ultra breve delle curve. Riteniamo che il modo migliore in generale comunque di investire nel credito a dispetto del fatto che ovviamente possiamo sembrare in pieno conflitto di interessi sia una combinazione tra la parte breve e ultra breve delle curve cash del mercato a yield per cercare di limitare il rischio di congelamento degli assets e anche di variabilità dell'investimento legato alla duration e allo stesso tempo cercare di investire molto di più nella gestione alternativa soprattutto in quei prodotti che siano in grado di temperare il rischio di drawdown attraverso l'assunzione di posizioni short nel mondo derivato e che possano consentire di generare alfa attraverso posizioni di valore relativo in un ambiente che è molto più contraddistinto rispetto al passato da elevata dispersione nel comportamento delle singole società. Quindi l'elevata differenziazione è un terreno fertile per l'alfa e quindi è la fine del dominio della gestione passiva che abbiamo visto fino al 2018 e l'inizio della gestione attiva. Infatti su questo tema anche altri suoi colleghi si sono espressi rispetto ad un maggiore protagonismo quest'anno della gestione attiva e lo vedremo anche concretizzarsi nei prossimi mesi. Io la ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi e adesso cedo la linea allo studio.